good morning si qui in realtà sono sostanzialmente 11 e mezza come dico in questi casi certo non proprio una mattina prestissimo una mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente david 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 si david linch it's june 7 2022 and it's a tuesday in naples a middle morning for me in this moment i'm very still right now eighty four and two fahrenheit around the 28 it's a tuesday is missing it's it today really 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 soft like this day in this period and all over because it seems more a summer climate than spring climate ehm si d'altra parte come dico sempre stanno andando verso l'estate non manca poco e questo è anche normale as riguarda il video tutto c'è da noi il file do it um chiedo ci sia il continuo alla parte di ieri insomma avete seguito un po il mio commento sullate report suo oppure il sì il mio commento spiegato chi avrei diviso in due parti diciamo in tre parti forse anche la video pensate perché dura circa 24 25 minuti e quindi purtroppo necessario fare così ad ogni modo se siete interessati ho che poi tra poco dovrei caricare che oggi è caricata la prima parte anyway i see and you will just see from the window you can see anything because you can see only the green roller shooter come sapete spiegato questi giorni noi cambiamo in estate apriamo la tenta per far spazio nella tappare alla green roller shooter a più che altro far passare l'aria quindi questo è il motivo ma forse potete vedere qualcosa in più from the sunglasses as you can see from the sunglasses forse filtra miraggi del sole non so I think that if you have a temperature potrebbe salire in altra parte d'estate può salire ancora di più but the really important thing with this atmosphere is that dico già we have perché a pomeriggio today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine and I think all along the way ovviamente all along the way qui si intende sempre qualche ora meno parlo soprattutto rispetto ai amici americani perché come sapete abbiamo un orario completamente diverso comunque la tendenza di stagione mi sembra ottima in stagione così come secondo me sarà come per maggio ho avuto sempre quasi sempre lo beautiful blue skies e golden sunshine ma d'altra parte in estate è sempre così c'è in genere c'è sempre diciamo più sole che tempo brutto quindi bene speriamo continuare così anche domani per cui c'è da di soffrono the mythical wind with the orange red blue water curtain behind me and it's green roller shooter green roller shooter near me and this day quasi tutta l'estate and finally the mythical keyboard amati gx 140 ipg ipg 625 e and and great day in the world people follow the john and riporsi un saluto albero a tutti and also i hope you will create breakfast io la farò tra poco il mio sommario è pronto come sempre non so se lo sentite ma soprattutto spero possiate consolarvi se il tempo deve essere brutto non che non ci consigliamo sempre quando facciamo colazione anzi tra l'altro due parole la curiosità è che le due parole dette in italiano fanno anche rima consolazione e colazione ma io personalmente quando il tempo è brutto mi consola ancora di più I'll see you in the video to see if you do it or tomorrow